La moda incontra il design. Torna al maschio angioino dal 9 all'11 giugno Napoli Moda Design 2023, evento promosso e organizzato dall'art director Maurizio Martignello, con il patrocinio del comune di Napoli che ha ospitato la presentazione. Filo conduttore della manifestazione sarà la natura, intesa come fonte di ispirazione creativa. Nel cortile del castello saranno installate sette torri in acciaio, alte fino a 10 metri, che hanno a che fare con il verde, come ci spiega l'architetto Martignello. Queste installazioni saranno delle torri in acciaio come se ingabbiassero alla natura, ma che la natura ovviamente con la sua forza e la sua potenza riesce comunque a vincere e noi tutto questo lo vogliamo rappresentare attraverso il design e la moda. Napoli ha molto di design, una sala come questa, tutto quello che noi vediamo, i gesti, i rivestimenti, i legni, i nostri banisti sono i nostri falegname, abbiamo degli artigiani bravissimi ed è giusto che anche noi parliamo di design a Napoli. Per l'occasione la macchina organizzativa dell'evento ha commissionato il restauro di alcune opere. La Vassallo Antique si è occupata del recupero di una tela del De Matteis di proprietà comunale. Sentiamo il restauratore Alessio Vassallo. Abbiamo avuto anche la fortuna di poter effettuare questo restauro, di quest'opera molto importante del De Matteis. Tutti sanno che è stato un allievo del Luca Giordano, sanno le sue opere e la sua vita, è una cosa bellissima. Nel corso della tre giorni saranno consegnati riconoscimenti a personalità che si sono distinte per talento e impegno in vari ambiti. Le eccellenze del nostro territorio, come dice l'assessore comunale ai giovani Chiara Marciani. Siamo molto contenti di poter ospitare, di essere una parte attiva in questo progetto che riguarda delle eccellenze della nostra città, quindi moda, design e anche cultura. Una maniera per raccontare quelli che sono gli artisti della nostra città con tanti progetti innovativi che speriamo possano essere anche un volano per giovani artisti per emergere, per raccontare quelli che possono essere i propri progetti.